Salve a tutti Zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video di StumbleGuys Tanto per cominciare, allora facciamoci subito un giro di ruota Intanto devo rinnovare i miei auguri a Elix95 che l'altro giorno ha compiuto gli anni Martedì scorso, abbiamo fatto la live tutta per lei, se non l'avete vista riandatevela a vedere Questi giri gratis me li farò da solo Quindi rinnovo i miei auguri, tantissimi auguri a Elix E adesso andiamo a farci qualche partita Ho letto che ci dovrebbe essere una mappa nuova Bot Bash o Bot Bash, non lo so Vediamo se è già stata implementata o dovrà ancora essere implementata Magari mi tocca Comunque non hanno ancora migliorato sta cosa qui della ricerca della mappa Dovrebbe essere un pochino più veloce E vediamo se da solo riesco a vincere una coppa Una corona Perché qui tutte le volte rimango imbottigliato Speriamo di farcela eh, lo sapevo Lo sapevo, salto troppo prima io qua Quando sono imbottigliato non riesco a vedere dove batto Oh no no no, oddio, stavo per cascare di sotto Mommato No gatto, fermati gatto Vai, bravo Questo non è tanto facile perché Eh guarda guarda, non sono passato Ma pensa te Sbagli il primo non passi Partiamo subito, rifaciamone un'altra Che brutta Che brutta partita No, lo chiamo subito Un'altra Quella è brutta perché se all'inizio rimani imbottigliato Io non riesco a saltare subito dall'altra parte Quindi faccio sempre questa figuraccia Comunque io mappe nuove Qui non ne vedo Questa invece potrei farcela Vediamo E mi fa partire per ultimo Dai gatto Fai il felino Su Oh non ti fanno Non ti fanno neanche saltare questi Guarda C'è talmente tanta gente Bravo gatto Da solo Non ti deve fregare degli altri Superali tutti Ecco la palla che mi prende Oddio per un pelo Il martello faccia di qua La palla faccia di là Siamo passati indenni Oh ma sono passati tanti indenni qui Doppio salto Oddio Eh ma Sembra di essere in live ragazzi Sono tutti fortissimi sono Però la prima l'abbiamo passata Vediamo adesso Eravamo anche in 31 Vi ricordo che Oggi uscirà la Serkrat eh Andiamo a uccidere l'ender dragon Vediamo se ci riesce Poi ci sono Altri due Nuovi Iscritti Che sono entrati nella Serkrat Ma non li ho ancora fatti vedere In questo video Lo farò vedere nel prossimo video Quindi ragazzi Se volete entrare come Come villager Nella mia Serkrat Mi raccomando Guardate il video della Serkrat Commentateli E piano piano Cercherò di far entrare tutti Tutti più attivi ovviamente E lasciate il like al video ragazzi Ho visto la Serkrat 190 visual Solo 26 like 27 Una cosa del genere Gatto Devi arrivare Gatto Devi arrivare Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero che ho fatto quella cosa lì No Ho eliminato Ma perché? Dai Voglio farne un'altra Su Ero arrivato Vedi Mi metto a parlare Mi confondo E mi succede questa roba qua Guarda qui C'è la pubblicità di qui Chiudiamo lassù Oh meno male Si può chiudere istantaneamente Vai Facciamo l'ultima ragazzi Vediamo se riesco a vincere almeno questa Io mi confondo ragazzi E poi Succede questo E stasera ragazzi live Mi raccomando Vedrò di farla nel tardo pomeriggio Così avete il tempo di uscire da scuola Rifare i vostri compiti Ancora questa Guarda 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 che ho fatto Guarda te cosa ho fatto Dai su Io vorrei vincere una corona No no Dai gatto Ma guardate sto gatto Non è Non mi piace Rivolgo il mio vecchietto Rivolgo Io rivolgo il mio vecchietto Era affezionato al mio vecchietto Oh non passo nemmeno stavolta E non c'è verso Non si passa Ma com'è possibile Cioè tanto vale Giocare in live con voi Che siete fortissimi Ma almeno con voi Ma io metto il mio vecchietto Dove sei Personalizza Sì io rimetto lui Perché loro Eccoti qui Vai Oh adesso vincerò sicuramente Quel gatto lì mi sembrava più Più agile Ma mi sa che il vecchio Con l'anche tutte malate È più forte Io sto guardando Se vedo Una mappa nuova Ma non Non la riesco a vedere Allora Vai vecchietto Fagli vedere chi sei No veramente Sono tutti fortissimi Guarda tutti E chi prende Il martello Ora guarda dove mi ha buttato Meno male che Tra un colpo e quell'altro Sono riuscito a rimanere In gara Dai Vedi Il vecchietto è più agile Del gatto Ragazzi Oddio Guardalo 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 come salta Guarda No vabbè Vedi Vecchietto forever Non ci arriverai mai lì Ma perché mi spingono Però comunque sia Il vecchietto Ha fatto il suo dovere Vedi sto È passato Allora Vediamo adesso Cosa ci tocca Speriamo Non la neve Io vorrei arrivare Almeno in una finale Vorrei farla Con il mio vecchietto Intanto ragazzi Vi ricordo di lasciare like Se il video vi piace Iscrivervi al canale Attivare la campanellina Per le live Ragazzi Che così vi arriva la notifica Andatevi a iscrivere Al canale di LadyBea Ragazzi Che è molto importante Che lì usciranno Tutti i nostri vlog E condividere Il video Con i vostri amici Abbiamo superato Gli 800 iscritti Grazie ragazzi In meno di tre mesi Sono molto Molto contento E adesso Vediamo di arrivare In una finale Dai su Io questa la odio Comunque come mappa Ve lo dico Non è che mi piace molto Quello mi vuol dare cazzotti A me È nella mia squadra Oddio Anche di là Si sparano da soli No Avete visto Come hanno tirato Il missile quello Di rimbalzo proprio Ma che fa quello Cioè Ma Ma no Dai Ci stanno boicottando Io non credo Che passerò Così allora Non credo proprio Che passerò Se i blu Si boicottano da soli Guardate là Oh Non mi ha sparato Ma Regina Esci di qui Cioè Mi sto buttando Di sotto da solo 6 a 5 Per loro 5 a 5 Io devo andare di qua Sì sì Ho buttato Di sotto lui Gli devo levare Queste qua E li devo tenere Tutti qua Eh niente Non ce l'ho fa 7 a 3 Ma com'è Sta storia No Vabbè Dai ci stanno Ci stiamo boicottando Da soli Ho tirato di sotto Almeno Sì Poi non vedo niente Girati La regina La regina che torna Si è buttata di sotto 6 a 6 Oh Forse possiamo farcela No Ma perché Eh qui è all'ultimo All'ultimo Secondo 6 a 5 Per loro No Ho sparato Al mio compagno Guarda La perdo io Guarda questa L'ho persa io Ho sparato al mio compagno Niente L'ho persa io Ragazzi Va bene Niente da fare Ragazzi Noi non siamo passati Quindi Per questo video Ragazzi è tutto Io mi raccomando Rimanete sintonizzati Che oggi esce la Seercraft Stasera ci sarà la live Iscrivetevi al mio canale E a quello di Lady Bea Ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Zecchini Grazie a tutti